sentite il passo elettrico con lo strumento a quattro corde si sta suonando in questo momento la sezione ritmica questa sera è composta dal dinamico duo il bassinista delle emergenze detto anche l'emergency drummer il bassista della madonna il virtù delle innumerevole numero di madonna che ha proferito nei pochi minuti figurata il bravo acustico che abbiamo testato e seguito con maestro Ferretti le disegnette a me alle quattro corde più due corde vocali per le madonna lì 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 Oh, we don't know where to go, welcome to this formation, just think to see they're always free, no surprise, no fucking mystery, come diceva Marrazzo, prima di poi della notizia della trima. It be simple when I call my soul, I always play the fucking role, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely. Come on, let me get that, come on, let me get that, come on, let me get that. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.